Io non riesco a capire come sia possibile, come sia possibile che le squadre italiane non riescono ad andare fino in fondo, e dico fino in fondo in questa competizione come può essere l'Europa League, come può essere la Champions League di Conference, magari ne iniziamo a parlare un po' di più quest'anno dato che è il primo anno in cui si gioca questa Coppa. Però ragazzi, veramente, 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 io sono dispiaciuto, ma soprattutto magari non dovrei esserlo a livello di tifoso, a livello di me stesso che sono un tifoso dell'Inter, ma se io guardo tutte le squadre italiane dell'era di quest'anno, ci ritroviamo tutte fuori dalla Champions League in primis, in primis, e in secondis, anche oggi, anche dall'Europa League, con l'Atalanta che era l'unica e l'ultima squadra rimasta dentro questa competizione, dove poteva andare fino in fondo, dove aveva buttato fuori il Bayern Leverkusen nel turno prima, dove non c'è stata l'occasione di fare meglio in questa partita, in 180 minuti contro l'Ipsio. Io sono dispiaciuto, io sono dispiaciuto, a me dispiace per l'Atalanta, da tifoso interista, e non so più cosa pensare, non so più cosa pensare perché ogni anno sembra essere la solita, la solita storia. L'Europa ci mangia, l'Europa ci mangia, calcisticamente parlando l'Europa ci mangia, sia dentro che fuori dal campo, sia per i problemi finanziari, con tutti i superplay finanziari che fanno in Serie A, dai risultati e da tutto e per tutto. Non c'è più nulla da fare, gà. È che quest'anno ci si poteva sperare, adesso rimane la Roma, la Roma, la Roma, la Roma, la Roma stasera, la Roma. In conference, in conference col VodoClimits. Altrimenti siamo tutti fuori, altrimenti sono tutte fuori. Un cuncù, colui che decide questa partita. Bisogna darsi una svegliata. L'Atalanta è e rimane una grande squadra. Quest'anno sicuramente meno degli altri anni perché in campionato sta facendo fatica rispetto agli altri anni, si sta facendo risultati meno importanti. Però con questa Europa League aveva la possibilità proprio di entrarci direttamente in Champions League l'anno prossimo, perché guardando la classifica in campionato non penso che l'Atalanta si qualifichi alla prossima Champions League. Poi io lo spero con tutto il cuore, preferisco sì l'Atalanta della Juve, ok? Però non penso proprio, non penso proprio. Un bacio a tutti ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Lasciate un mi piace, commentate e condividete tutti insieme in massa questo video. A me dispiace dirlo ma l'Atalanta è fuori dall'Europa League. Mi dispiace dirlo, purtroppo è così. Sempre Forza Inter.